ha piovuto 10 minuti e poi basta invece su a San Felice ha dilubiato tantissimo ha dilubiato ora siamo a Carugate e le lampi ci sono vediamo che secondo fa sono le lampi e poi non ha piovuto da una leata leata rossa leata rossa ma quindi alleata rossa non vedo niente non vedo per due gocce l'ha fatto all'altra rossa inizia se in due gocce non l'ha fatto da due gocce ha un temporale fortissimo all'alta rossa io sono due gocce ho visto mi metto sbaglio di volte tante volte e i lampi ci sono in alto forse la bergamasca l'ha piovuto se la bergamasca l'ha piovuto non hanno preso Pessana stiamo andando prendiamo la sigherate prendiamo la casa stiamo andando 23 e 23 e 43 minuti lunedì 3 luglio 2023 per l'estate sono una buona estate ho il GPS in testa ci sono un'alto 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 ci sono un'alto